3, 2... Oggi siamo ad Avigliano, in provincia di Torino, dove un imprenditore, dopo 16 anni di attività, per il caro Bollette, completamente abbandonato dallo Stato, ha deciso di chiudere la propria attività e si comincia proprio da qui, a smontare le insegne. La situazione è drammatica perché abbiamo dei costi incredibili, dove la bolletta elettrica è arrivata 5 volte quella che normalmente veniva pagata l'altro anno, il gas, anche questo è aumentato in modo spaventoso e lo Stato ci dà una piccola mano, credo d'imposta, con una piccola parte per quanto riguarda la bolletta e poi ci ha aiutato un po' dandoci il 50% come credito d'imposta sulla metà di una rata pagata dalle due dell'altro anno dell'Imu. I comuni, questi, viaggiano per conto loro, hanno una tassazione loro, per cui la tassa pubblicitaria non intendono sospenderla, anche se possono sceglierla con decreto legge, potrebbero farlo, è data facoltà di toglierla anche in superiore ai 5 metri, ma gli incontri che ho avuto col sindaco non prende in considerazione nessuna riduzione, il resto la Tari è sproporzionata perché paghi sui metri quadri quando non hai presenza e non hai produzione di rifiuto, quindi non ci sono riduzioni se non la facoltà dei comuni di farlo, per cui si crea una ingiustizia perché due comuni diversi, magari a 100 metri di distanza, possono avere un'agevolazione etaria, altri non te la danno, per cui ti trovi a pagare… la bolletta della luce è spaventosa, la bolletta non è più sopportabile, sicuramente quando arriverà anche quella del gas, quando dovremo accendere il riscaldamento, arriveranno delle cifre insopportabili che superano il fatturato dell'hotel, quindi l'unica possibilità è aspettare il 9 di novembre quando ci accenderemo, vedere cosa arriva, dopodiché 99 su 100 ci sarà la chiusura. Questo è tutto. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. Ok. Ok. Quello che mi aspetto è solo quello che pretendo e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità, c'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione, quando un bambino muore allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole. Siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare e tutto è di ricominciare, ricominciare. Ognuno gioca la sua parte in questa grande scena, ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio, il peso del coraggio. E dopo 15 anni oggi si tolgono le insegne, come ci si sente? Un dolore e disperazione, non mi basta, non so. Un dolore e disperazione, non so.